Io, io non capisco, non capisco papà perché hai scelto liberamente di rimanere. Guardami, perché non sei venuto via quando potevi? Di cosa stai parlando? Sto solo cercando di capire perché non sei tornato a casa quando hai potuto. Ma cosa stai blozzerando? Perché hai scelto di rimanere? Dove? Qui! Nel camper? Lascia stai. Sono? Dove? 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 Papà, papà, che cos'è questo palazzo? Noi, noi, noi l'abbiamo nascosta lì. Permesso? Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Io ne ho una come questa. Me l'hai portata quell'estate quando sei tornato. Era lei Camilla? Papà, era lei Camilla? Papà, la statuetta in camera mia è la santa di quella bambina Camilla. We probably should go. What is wrong with him? Nothing, nothing is wrong with him. Thank you, thank you very much for your help. Papà? Camilla è qui. Ci vive lei. Camille vive in questa casa? Ci vive lei, l'ho salvata, è una casa sicura. Chi? Camille? No, lei! Dizio, come si chiama? No, ok, 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 ok. Prenditi tutto il tempo necessario. No, ma è una casa sicura, saremo sicuro là dentro. Papà, ma noi non siamo in pericolo. No, 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 no. No, lei! Stai confondendo tutto. È una casa sicura! Sì, papà, l'hai già detto! Ma allora perché siamo ancora qui? Andiamo! Let's... Straight, five minutes, right, house. Straight, five minutes, right, house.